Il treno è costruito così, due binari, più facile così si muore, ma lunghi, ma puoi arrivare anche in Africa, se non ti preoccupate se ne finisce subito è biario morto, vai è lungo, due pezzi di ferro, due pezzi di ferro li saprete costruire, di ferro duro, due pezzi di ferro duro, con due cose di legno dentro, va bene? Vai con questi due pezzi di ferro, dove ti pare? Curvi quando c'è da curvare, salisci, scendi, treno, tutto di ferro, fumo che sbuffa, tuf, tuf e c'è. Treno. Treno. Come fa ad andare questo ciò? Si butta la legna nella caldaia, il calore vi sviluppa, vi sviluppa energia questo treno fa. L'operaio, Marx, l'operaio, il capitalista sfrutta l'operaio, che non lo sa d'essere operaio, la coscienza di classe, lo sciopero, è scioperare, oh quanto mi vuoi far lavorare a me, lo sciopero ci vuole. Freud, dice questo tavolo, questo topolo, e che sei? Lapsus freudiano, la tua mamma ti piaceva, complesso di tipo. Freud, c'è l'inconscio, dentro di te c'è l'inconscio.